Io conoscevo Lucio solo di note negative e positive, come si dice nel mondo del cinema. Le positive erano che era un bravo regista sul set, che era un tecnico straordinario. Io solo per sentire, non l'avevo mai incontrato fisicamente neanche a una festa, però il cinema c'è il radiocinema. E ne parlavano tutti bene tecnicamente, come sceneggiatura, poi aveva dato già delle prove di sceneggiatura per i film di Sordi e di altri. Aveva dato prova anche a dei musicali, con due o tre canzoni che ha fatto insieme ad altri. Sentivo sempre parlare di questo Lucio Focci. Se Lucio è stato, tra i registi con i quali ho lavorato, sicuramente il più competente nel leggere le sceneggiature e capirle. È stato quello che, tecnicamente, molto più preparato, capiva subito come si poteva girare una scena, che tipo di soluzione si avrebbe ottenuta e se poteva farla o no. E anche quanto costava, era molto bravo nel saper valutare il tipo di scena da fare e nel realizzarla. E quindi ci siamo trovati, perché Focci o lo ami o lo odio, non c'era una via di mezzo per chi se lo ricorda bene. Però ci siamo trovati. Io so riuscire a fare, credo, tre film, quattro con lui, cosa che nessun produttore ormai non ce la faceva proprio. Dopo il primo film diceva, no, basta, insopportabile. Io lo trovavo divertente. Invece c'erano i negativi che mi dicevano il disordine di Lucio Focci. Il disordine che parlava, si metteva le cose in tasca, si buttava per terra, si doveva vedere una scena di qualcosa che non c'era posto. Lui era capace di sdraiarsi in terra, se era in esterno, in mezzo alla polvere, se era in casa su un pavimento. E il disordine di quando parlava tanto, perché lui era proprio una radio, una radio sul set, fino a che non c'era il ciacche. Era sempre proprio, parlava di tutto, parlava del cinema italiano, americano, raccontava cos'è, parlava con gli attori, con noi tecnici. Questo non era che era negativo, era il suo modo di vivere, il suo modo che poi io ho conosciuto nei 11 film che ho fatto con Lucio Fulci. L'horror, come tu ben sai, è stato un detour, una svolta della sua carriera. Ma se l'avessi visto girare una commedia o un western o un film storico come Beatrice Cenci, ti saresti meravigliato come il clima era lo stesso, sempre molto disteso, come delle persone, degli adulti che giocavano. Io producevo i film di Fulci per arrivare agli incassi di Dario Argento e io sostenevo che era giusto perché Fulci non era meno di Dario Argento. E non ci riuscivamo, usciva Dario Argento, all'epoca faceva 4 miliardi, uscivamo noi e facevamo 1 miliardo e 2, 1 miliardo e 3, che era un buon incasso, non c'era da lamentarsi, ma non era là, il film non era esploso. Quando lui ha preso questo zombie nasce come sfida, ci siamo detti con Fulci, ma facciamo zombie pure noi e quindi ci siamo inventati questo tipo di zombie. Certo più da fumetto, più forte, ma è stata voluta, lì la paura era che invece di mettersi in paura ridevano quando vedevano questi zombie. Il nostro errore durante le riprese era quello lì, perché era un zombie, era proprio esasperato. E invece no, è un film che ci è riuscito bene, la gente invece ci ha avuto paura, non li dava neanche per niente. Lucio, che io ho conosciuto nel 1975, poi per Sette notte in nero, poi ci eravamo persi di vista, fa questo film dopo un momento piuttosto nero della sua vita privata e personale. Quindi arriva incazzato a mille e dà il meglio di sé nella realizzazione di questo film, partendo dal presupposto che Lucio non amava gli horror, non li aveva mai fatti e quindi per lui era un'esperienza nuova. Però proprio per la sua situazione particolare ci si getta dentro con molta agilità, con molto slancio e cambia le regole dell'horror italiano. Era un momento storicamente borderline per il film di genere, perché stava finendo la parte iniziale del film di genere con i pirati, western, romantico, fatto in un certo modo. E stava iniziando un cinema di genere molto più duro, molto più realistico, molto piuttosto cinico, senza speranza, violento per essere violento. Cioè i finali, da quel momento lì, i finali sono duri. Lo stesso sguardo disincantato, estraneo, che ha avuto Sergio Leone nei confronti del western e l'ha rivoluzionato, è stato quello che abbiamo avuto noi nei confronti dell'horror. Perché l'abbiamo tolto dalla matrice classica, che l'abbiamo sparato in una sorta di iper spazio, dove valevano le emozioni per le emozioni. Io non sono stata mai una grande frequentatrice di set, a differenza degli altri, so che il set è noiosissimo, qualunque set è noioso. Però capitai sul set di Zombie 2, andai a trovare papà a Latina, giravano alcuni esterni vicino al Bellagro Pontino. E c'era questo posto, che effettivamente era un tropicale di Roma, con due o tre palme o cose del genere. E vedi, da lontano vedevi tutti dei signori su delle sdraie che prendevano il sole. E io ho detto, ma che bello, mentre mi avvicinavo, poi più mi avvicinavo, più mi accorgevo che questi signori avevano la faccia completamente piena di argilla, fermi, terra, terriccio. Ogni tanto passava qualcuno e gli rovesciava, che ne so, un bicchiere di terra per farglielo appiccicare bene. Ma era una scena bellissima, da lontano sembrava il villaggio turistico degli zombie. Capito? E la bellezza del trucco degli zombie ti racconta un po' anche come era mio padre. Per mio parere era impensabile uno, qualsiasi, che veniva fuori dalla terra, che non avesse la terra in faccia. Ed è vero. E infatti gli avevano fatto mettere addosso la natura completamente, pezzetti di legno, eccetera. In quel momento, proprio diciamo in quel momento storico, successe qualcosa che mise appunto la questione incasso Botteghino Italiano in secondo piano. E questi erano i produttori come Fabrizio De Angelis, dei pionieri assoluti, che presero ed esportarono queste cose. In realtà parecchi erano prodotti per l'esportazione. La furbizia di far sempre recitare, condizione proprio assoluta, recitavano sempre in inglese, tutti gli attori recitavano in inglese, proprio perché erano prodotti che dovevano essere esportati all'estero. Guarda, per la vendita all'estero di questi film ci volono poche cose, pochissime, due cose. All'epoca era importante la cosa prima dell'importanza del produttore. Sembra strano, ma non era la regia. Perché se il produttore diceva, io faccio questo film, ti dava una scalettina di una pagina, l'acquirente sapeva che quel produttore, come il cuoco di un ristorante, gli avrebbe fatto quel film cucinato in quella maniera, che lui lo pagava 10, magari valeva 15, ma non valeva 8 e non valeva 50 chiaramente. E quindi era la fiducia che, prendendo l'anticipo, non scappasse, non realzasse il film. Quindi era facilissimo. Io vendivo sempre film su un bozzetto, bozzetto. E addirittura al mercato americano li vendevo sul titolo. Il mercato si muoveva molto sull'intuizione di Fabrizio De Angelis, ovvero era Fabrizio De Angelis che aveva intuizioni su come si sarebbe mostro il mercato. Lui andava al Mifed, che era una cosa incomiabile, che c'era fino a metà degli anni Ottanta. Adesso è sparito, è stata la morte del cinema di genere alla fine del Mifed. Fabrizio aveva una sua grande abilità nello snasare l'aria, nel capire quello che stava per accadere. E quindi quello era il momento in cui lui decideva cosa fare. Spesso e volentieri, poco prima del Mifed, 15-20 giorni prima, lui mi chiamava e mi chiedeva di pensare a due o tre storie. Poi chiamava Sciotti, che era un bravissimo disegnatore, che faceva delle locandine. Prima di girare un film, mi chiamavano per fare il bozzetto pre-film, cioè per portare ai Mifed a Milano per vendere il film prima, con il bozzetto prima che cominciassero a girare il film. E da quello là, dai contratti che facevano, poi facevano il film. Praticamente il bozzetto veniva fatto prima ancora del film, ma tantissimi. Lui si inventava un titolo, e quindi andava lì presentando questa locandina con un titolo. Dietro c'era una sinopsi di dieci righe che avevo scritto io, messe lì così. E a seconda di com'era l'aria del mercato, lui capiva se andavano di più i zombie, o se andavano di più le leggende, o se andavano di più i gialli, o se andavano di più. Quindi mi telefonava e faceva, darda no, parti con questo, parti con quell'altro. E questo è successo con l'aldilà. L'aldilà è il fascista, lui viene in ufficio a me e mi diceva, facciamo un film. E qui il titolo, devo lì, che sarà stato suo, perché è talmente normale, dice, c'erano due, mi racconta di una coppia, prendono una casa, poi lui dice, sotto c'era l'inferno. Ma come c'è l'inferno? C'era la cosa forza, c'erano tre morti che l'hanno ammazzati. No, c'è l'inferno, l'aldilà. Poi capire, a me come ho detto, l'aldilà, è già un titolo. Io solo il titolo mi dava fastidio, dicevo, ma che titolo è l'aldilà? Allora io, dignanto, dicevo, giocando ai preparazioni, sopra luoghi, ma lui diceva, che ne sappiamo noi dell'aldilà? Io lo dicevo apposta, perché volevo una sua risposta. Lucio, ma che cos'è l'aldilà? Ma dove sta scritto l'aldilà? C'è qualcuno che lo sa raccontare? Io gli dicevo, poi parlavo di religioni, parlavo della mia religione cattolica, gli dicevo, quelle musulmane, quelle ebraiche, Dico, ma non sa qualcuno, che cos'è l'aldilà? Chi è che c'è? Allora lui mi diceva delle parole volgarie, state zitto, sto, o di qua o di là, insomma. Il progetto è l'aldilà nasce, come ho già accennato prima, da una telefonata che fa Fabrizio De Ange, Dardano, il film è l'aldilà, comincia a scrivere. Cioè nel senso che lui telefonava dal Mifed, era andato su al Mifed con tre progetti diversi, due horror e un avventuroso, non mi ricordo quali, quello che aveva tirato l'attenzione dei mercati esteri era l'aldilà, e lui mi disse questo. Io cominciai a scrivere direttamente la sceneggiatura, da quel piccolo soggetto di 3-4 pagine che avevo scritto per portarlo al Mifed. E nasce sto film, siamo andati a farlo in Louisiana, in Louisiana, sì, sì, in Louisiana, perché c'erano questi alberi, queste atmosfere, e poi anche perché i costi, essendo il primo film che facevo al 100% con lui, a New York faceva paura, insomma, in Louisiana era un bell'angolo economicamente, che io già c'ero stato prima a girare un film con Aristide Massaccesi, Giovanni Amaro, perché conoscevo le piazze, insomma, che era Emanuele in giro per il mondo, che abbiamo fatto il giro di tutto il mondo, col biglietto Panamme che all'epoca stava un milione e cinquanta, poi gira tutto il mondo scendendo e stando due, tre giorni o comunque andava, la famosa Panamme che non c'è più. Io scrissi la prima versione della sceneggiatura, normalmente le mie sceneggiature, la prima stesura è quella valida, poi sono andato in America, con Dino della Prentis. Praticamente noi chiamavamo lo sceneggiatore, dicevamo tre parole, tre parole e che lo cominciavamo a scrivere, poi ci ricontrevamo, poi Fulci c'era pure a lui certe, poi Fulci c'era delle volte proprio delle scene in testa, c'era la scena di uno che fa questo e l'occhio gli aveva fuori, poi bisognava solo costruire la scena per arrivare a quell'effetto speciale, perché ho visto l'occhio, allora fa pure io, pure meglio, la vanna in macchia, era un lavoro bello, c'erano delle belle riunioni. Faceva critiche soprattutto di carattere psicologico sui personaggi e tematico sulla costruzione della storia, perché lui veniva da una vecchia scuola, quindi veniva da una scuola dove i film hanno un inizio, uno sviluppo, una scena centrale, c'è il buono, c'è il cattivo, eccetera. Quindi il suo approccio iniziale era quello, non era altro. Cioè lui preferiva togliere, fa conto un 10% della sceneggiatura come è sempre stato e quindi quello che lui suggeriva era un lavoro di ripulitura, anche perché togliendo non soltanto come dire, si parava al culo per poter girare quello che sapeva di poter girare e girarlo bene, ma in realtà alleggeriva il racconto, lo rendeva più semplice e aveva la possibilità di poterlo gestire meglio. La fotografia dell'aldilà, come quella di moltissimi altri film diretti da mio padre, nasce dalla genialità di Sergio Salvati che è stato il suo direttore della fotografia del cuore. Avevano un'intesa pazzesca, si volevano anche molto bene umanamente e con Sergio c'era una specie di telepatia. Cioè Sergio capiva esattamente cosa papà voleva e non erano spesso scelte molto facili, ma c'era questa appunto questa intesa pazzesca che nel loro caso era qualcosa di quasi magico, non avevano neanche bisogno di parlare. E questo l'ho usato molto pure nelle film colline di New Orleans, però la cittadina usava molto il caldo normale di una cittadina che New Orleans è famosa nel mondo, del sud, di colore, del caldo del jazz e tutto quanto di questa cosa. e New Orleans è poi cercato di fare la parte più cittadina di New Orleans e più calda, diciamo. Invece tutti gli interni invece un pochino più freddi, freddi proprio di facce e con i colori, i blu o colori diversi, che adesso non mi ricordo che colori usavo, se erano oranje o se erano i violetti. Per esempio per i violetti molte volte bastava un tocco su un angolino, su una porta, ma ho usato molto nei film dei luci le gelatine davanti alle lampade. New Sussonci aveva un rapporto con la musica molto stretto ed era una persona che nonostante spesso amasse, come dire, interpretare un ruolo abbastanza low profile in certe situazioni, aveva una cultura piuttosto complessa, era uno che anche lui era partito dalla gavetta, ma aveva toccato la musica direttamente, anche la musica leggera, aveva fatto dei testi, ma era stato comunque nel giro grosso dei cantanti, dei realizzatori, della discografia. All'aldilà è un altro capitolo importante, forse uno dei più importanti con Lucio, perché l'amicizia e il rapporto crescono, e la fiducia cresce, dura quando la fiducia cresce, perché bisogna non deluderla la fiducia. E siccome parliamo anche di progetti che avevano molte omologie, la cosa più difficile in questi casi era di staccarsi da qualcosa che si era fatto senza di staccarsi troppo. Allora io ricordo questa giornata alla De Paulis, che era lo stabilimento dove mi pare di ricordare si stesse lavorando, dove questo studio era la casa, stavano girando le scene della seconda parte, quando Emilia ha già gli occhi bianchi, e Lucio mi aveva parlato di questo pianoforte, voleva che a un certo punto il pianoforte suonasse qualche cosa, che si ricollegasse alla colonna sonora, che era carino, insomma era un'idea. E' un tema che ancora oggi, devo dire, mi fa un certo effetto. E' essenziale, in fondo gira sempre su se stesso. Uno dei miei vecchi trucchi, che è poi un trucco di tanti musicisti, quello di proporre un tema e poi di riproporlo una terza minore sopra, che ti dà questo grosso effetto di crescita, ma è un mezzo tecnico per poter avere questa cosa, è stato usato molto in questa... e devo dire che in uno spettacolo che sto preparando, che non è su Fulci, ma è anche su Fulci, il medico di Fulci comincerà col tema di pianoforte di Emilia. Dunque, la mia esperienza cinematografica inizia nel 1978, cioè un agente mi manda da Montaldo per Il Giocattolo, un film con Manfredi e con Vittorio Mezzogiorno. Io sono un attore teatrale, il cinema non è che mi interessasse granché, comunque ho fatto quel film e poi sempre tramite agente mi chiama Fulci per l'aldilà. Nell'aldilà io facevo Zweig zombie, quindi con la maschera e con tutte queste belle cose. L'anno dopo Fulci mi richiama per fare il mostro del film, quella villa accanto al cimitero, quindi Freudstein. E poi l'anno dopo, nell'82, ho fatto un altro film per la televisione, però poi la mia carriera cinematografica, la parentesi cinematografica, si è chiusa. Non era un mezzo adatto a me. Io sono molto attore di teatro, per cui al cinema non mi trovo granché bene. Poi c'è anche un discorso, io ho i ritmi circadiani, ritardati, come tutti gli attori di teatro. Sono abituato da sempre ad andare a letto alle 5 del mattino e alzarmi le 3 del pomeriggio. Lì dovevo invertire completamente gli orari, dovevo essere alle 6 sul 7, era una cosa impossibile. Era molto simpatico, era molto ironico, anzi addirittura molto sarcastico. Le sue battute erano micidiali, insomma. Aveva come, mi ricordo, che aveva come parafulmine il suo aiuto regista, che era un certo Giandalia. e Giandalia, poverino, subiva le ire di Fulci in qualunque momento del caso. Una cosa non andava bene era Giandalia, insomma. E quindi lui era il parafulmine. Tra l'altro, il vero libro di Eibon è un libro positivo. Cioè, c'era bisogno di avere una sorta di leggenda autentica. Io trovai questo libro di Eibon, non mi ricordo quale lettura, e lo misi lì. Piacque molto a Lucio. Anni dopo ho scoperto che poi, in realtà, il libro di Eibon è uno dei primi libri, dei primi profeti, per cui in realtà è come se fosse una sorta di prebibbia positiva, dove dentro ci sono anche delle cose, come nella Bibbia c'è tutto, nella Bibbia c'è trovi qualsiasi cosa. Tu dì una cosa e la trovi nella Bibbia, non è che non la trovi. Quindi, però non era il libro maledetto, cioè non era il necronomico. Molte persone si domandano da dove viene il simbolo del libro di Eibon e immaginano chissà quale origine esoterica o storica. In realtà, il simbolo del libro di Eibon viene da un piccolo tatuaggio molto rozzo che io ho sul polso che mio padre ha odiato fin dal primo momento che me l'ha visto addosso. Io ero una ragazzina molto frivola e mi feci un tatuaggio di quelli proprio fatti con l'ago a casa, col filo, l'inchiostro di china. Riuscì a tenerlo nascosto sul polso, riuscì a tenerlo nascosto per pochissimo tempo, poi papà lo vide e da quel momento cominciò a odiarlo a morte. Questo schifoso tatuaggio che non significava poi nulla, era un segno che non so perché mi feci fare sul polso, ma non aveva nessun senso. Allora ricordo benissimo che Massimo Lentini, il grande scenografo dell'aldilà, era a casa nostra e stavano discutendo sui dettagli proprio della scena, di questo libro, della porta, come doveva essere. Per me era proprio proibito, era off limits entrare a qualsiasi età nella stanza, nello studio di papà quando lavorava. E mi sento chiamare a gran voce, vieni qui, vieni qui, corri, corri, che mi devi far vedere una cosa a massimo. Arrivo, io tutta trafelata, pensavo di dovergli far vedere, non so, un libro che avevo, un disco, oppure un'immagine, a me piacevano i libri di fotografia, e mi fa, fagli vedere un po' quella schifezza che c'hai sul polso. Io le ho fatto vedere il segno, gli ho detto, bene, fallo uguale a quello schifo lì, va, e adesso vattene. E mi caccio via, come sempre. E così nasce il libro di Eibon, la porta dell'aldilà, da un tatuaggio scolorito che non mi toglierò mai, perché ormai ha preso questo significato, è divertente l'idea di avere il libro di Eibon sul polso, ma lì per lì, da piccola, mi ha costato parecchi giorni di studio a casa, molti sabati e domeniche. Allora, l'esigenza di chi fa musica, anche da ragazzo, col gruppo, qual è? Quello che, vuoi fare un brano con gli archi, non lo puoi fare, allora, parlo di allora, perché avevamo la tastierina, avevamo le chitarrine, ma tutto ciò che era orchestra era irripetibile, perché non c'erano i campionatori. Allora, il Mellotron funziona, insomma, sembra, però, per farvi capire, molto semplice, ha degli enormi cartridge, delle enormi cartucce, che vengono inserite di dietro e, qual era la grande invenzione, che oggi sembra ridicola, ma era una grande invenzione? Tu prendi un registratore, semplice, prendi una nota di un violino, gli fai fare un Do, e lui fa il suo Do, lo registri, e lo metti su una, su un pezzo di nastro, poi allo stesso violinista gli chiede di fare un Do diesis, poi gli chiede di fare un Re, eccetera. Quando lui avrà finito la pazienza, tu avrai una trentina, quarantina di pezzi di nastro. Se tu questi pezzi di nastro li attacchi, emetti delle testine che li leggono contemporaneamente, tu suonando un Do, Mi, Sol, avrai un accordo di Do maggiore suonato da quel signore che è andato via prima. questa intuizione messa poi dall'inventore in pratica ci permise di avere una emulazione di orchestra d'archi, di fiati e di coro. Allora, la cosa bella qual'era? Che il campione di coro era un campione che aveva anche una parte maschile molto grogo, fatto da molte persone, quindi era un effetto importante, cioè non era una vocetta, era un impatto. E allora queste melodie che erano ooooh queste qua, fatte con questo aggeggio, unitamente ad altri effetti, ad archi, ti davano questa sensazione proprio di voci che venivano da qualche altra parte che non erano reale. in tutta la serie di Fulci, quasi tutti i film di Fulci, si trattava di raccontare la voce dei morti, cioè nel senso dare su una scena in cui vedi questi incredibili personaggi che si alzavano dalla terra, dare come se fosse la loro voce, raccontarli in prima persona. Io ho deciso di chiamare questa volta non solo il Mellotron ma della gente che cantava. E chiamai, incredibile a dirsi, Nora Orlandi, adesso per gli italiani che ascolteranno queste parole capiranno che in una situazione quasi sperimentale, su un film diciamo di avanguardia o comunque un film ruvido, rough, come direbbero chiamare Nora Orlandi sembra assoluto. Nora Orlandi per coloro che non se la ricordano era il massimo del coro su Roma, erano quattro donne, quattro uomini che cantavano nelle canzoni, cioè nelle canzoncine loro erano il coro andavano a Sanremo. Nel Diesire c'erano queste, Diesire è un'opera del 200, Tommaso Acelano, insomma comunque era un'opera diciamo così sacra in cui si parlava proprio dell'aldilà, voglio dire, quindi quale migliore scelta di trovare e le due frasi che tutti, insomma che molti non hanno capito sono cum resurget creatura, quindi quando la creatura risorgerà e l'altro era adesso non me la ricorderò ma poi aspetta quantus tremor est futurus, cioè quanto tremore ci sarà e queste frasi che sono un po' dentro, quindi sono state poi negli anni interpretate in vario modo, ho sentito delle io spesso passo le notti sveglio al buio steso a guardare il buio sopra di me dove non c'è niente e dicendo questo è il niente che mi aspetta che cosa farò nel niente non lo so e forse non me ne accorgerò neanche e questo mi farò a guardare il culo perché io vorrei sapere che cosa accade nel mio niente la vita positiva ce la inventiamo te e Dio per poterci addolcire della sofferenza di chi nasce per una condanna a morte cioè tu nasci per essere annullato noi ci inventiamo una serie di cose per dimenticare che saremmo annullati per sempre smembrati cioè l'aldilà è un film che va nell'aldilà cioè andiamo a rappresentare direttamente l'inferno l'anime morte e lo facciamo dato che è l'inferno al di fuori della geometria euclidea cioè è un pretesto l'albergo è un pretesto sono un pretesto i personaggi quello che contava era intrecciare emozioni pure per quei discorsi che abbiamo potuto fare sull'argomento gli zombie messi a forza per il mercato tedesco e poi lasciati lì per tutto il resto credo che non che avrebbe potuto anche farne a meno io non credo comunque che la scena abbia tolto molto cioè che la scena sia messa lì o sembri una scena buttata lì per caso perché ci sta benissimo però allo stesso tempo a pensarci bene immaginando il film senza questa scena si riavvicinava molto più alla sua immagine dell'afterlife senza questa iper realtà del corridoio dell'ospedale con gli zombie secondo me pensandoci adesso col senno di poi la sua immagine dell'aldilà era molto più appunto esoterica era molto più simile a quel finale assurdo pazzesco bellissimo che noi abbiamo davanti la scena finale dell'aldilà che non è stata girata poi era al Luna Park perché era grande il Luna Park della vita dove in realtà si divertivano soltanto i morti cioè tu stai in un Luna Park ti diverti tanto nel tunnel dell'orrore ti diverti sulla ruota ti diverti nell'abinuto negli specchi e sei già morto quando cominciano a preparare il film e a girare mi chiamano non si può fare il finale non si può fare il Luna Park come facciamo come non facciamo quindi il finale nasce attraverso telefonate di mediazione e nasce anche attraverso cose che in questo momento non saprei neanche spiegarti che sono frutto delle cose del momento anche delle cose che ti vengono in mente e che dice che quell'altro recepisce in un certo modo molto più se vuoi Fulciano nella realizzazione che non impostato da me se ne la soltuna io non sapevo noi abbiamo girato e l'abbiamo fatto proprio al finale quasi del film proprio come finale film e finale anche di lavorazione c'erano da fare altre cose e stavano studio di Roma si chiama ancora De Paulis sulla Tiburtina e noi giravamo nel teatro di Posa dove avevamo degli interni a fianco c'era un teatro vuoto proprio vuoto teatro di Posa però non c'era costruzione c'era vuoto c'era solo la polvere in terra polvere di altre lavorazioni di film però era tutto vuoto pareti nere e dice lo facciamo qui il finale Fabrizio De Angelis chi era tutto loro si e c'era pure lì Lentini diceva facciamo qui portiamo un po' di terra allora cominciano ad arrivare mentre noi giravamo al teatro ogni tanto vediamo uscivamo fuori chi fumava i due teatri erano vicini così uno o due e vediamo che arrivavano cammi di terra proprio camion grandi quelli che portano la terra proprio la polvere e la mettevano per terra poi prendevano delle cose rovi cespuglietti cioè tutte le cose le mettevano lì un giorno che più o meno era pronto così l'ambiente era vuoto non c'era niente e lui ci dice andiamo a vedere quando è che giriamo giriamo fra due o tre giorni bisogna prepararla io ho detto vabbè io intanto preparo un po' di pre-light quando si prepara in un teatro sopra c'erano i ponti e dico all'elettricisti mi mettete così così le lampade i grandi proiettori 5 di qua di là mi ricordo questa cosa per preparare perché sapo che tutto si vedea poi sotto allora mettevo la luce come si fanno normalmente tutti e faccio preparare e lui ci dice questo è l'aldilà dico Lucio ma c'è sta la terra le cose che facciamo che dico con me non sapevo che fare il giorno dopo io faccio accendere mi hanno preparato le luci vado da solo e vedo dico ma accendete le luci per favore quella sabbia che avevano portato quella terra sabbia era umida per fortuna per fortuna ecco la fortuna nella fortuna era tutta umida che avevano preso non so quale cava di Roma il mare e cominciano ad accendere e vedo che non succedeva c'era la porta grande del teatro tutta aperta open proprio così tutta aperta perché stavamo lì solo a vedere noi ero io gli elettricisti e dico ma come faccio che esce fuori qui esce fuori dico chiudiamo le porte usciamo dalla porta piccola le porte quelle piccole per passare noi non i mezzi dico ritorno a fine lavorazione però lasciate tutto acceso ma solo così come fortuna per vedere quando arriviamo vediamo che ha uno creato questa umidità calore umidità qualcosa che si alzava qualcosa che si alzava nel senso di di che ne so l'effetto chimico diciamo chimica allora dico ma allora se questo è bagnato e fa questo effetto allora se ci metto altra acqua allora ho fatto bagnare dico spingete tutto bagniamo un po' ho chiamato l'attrezzista non mi ricordo chi era uno bravo bagna tutto poi domattina lasciate la porta chiusa per fare quella grande passiamo tutti dalla porticina piccola ho detto andiamo avanti a vedere che succede lì domani appena si è arrivato ho fatto accendere tutto noi siamo andati al teatro a girare io ogni tanto due ore andavo di là col capo elettricista solo e vedere e vedevo che si alzava sempre questa atmosfera di lasciando tutto chiuso poi ho fatto passare del talco della polvere sopra tutte cose inventate ma non sapere quello che quando siamo entrati abbiamo visto che si era fermata tutta come in una nuvola stavamo tutti sospessi hai visto che c'è sul finale poi si io mi sono aiutato ho messo anche un filtro in macchina per dare ancora una sensazione di perché io come vedo te che vedo che c'è una luce incontroluce e ti vedo che c'è la luce negli occhi con le luci in macchina e veniva tutta questa atmosfera sembrava un sospesso più o meno questa è stata la cosa ma senza solo fortuna l'atmosfera cosa che io ricordo ancora come la scena migliore avendo a girare il mondo però lì quello fu un fatto magico si potrebbe essere una fesseria invece è un fatto bellissimo Fulci e gli attori dipendeva dagli attori ma attenzione si può allargare anche a Fulci e la troupe Fulci a qualunque collaboratore perché mio padre poteva accettare tutto ma non accettava la persona che si dava le arie e che non era professionale io l'ho visto far fare delle cose incredibili a degli attori fargli fumare fargli appiccicargli dai vermi in faccia tenerli a mollo per ore e ore e quella diciamo secondo me era alla fine la prova del nove per vedere se resistevi perché secondo lui se tu eri un professionista quello dovevi fare una cosa di Lucio Fulci lui Lucio Fulci l'unico rapporto che aveva negativo era con gli attori la fatica con Lucio era durante il giorno tenerlo non farlo dedicare con gli attori era spietato però noi che lo conoscevamo era uno spietato ironico a me mi faceva impazzita lì insomma mi divertiva e chiamare i pupazzi ma quella era ironia non era cattività però questi non lo capivano allora c'era questo rapporto invece tanti lo amavano e qualsiasi film che dopo lo capivano era divertente era una chiave per diventare amico se diventare amico va finito insomma mi ha messo lui il soprannome il cobra il cobra cioè soprannome terribile invece era un bene amato però era così mio padre dimostrava il suo affetto o il suo apprezzamento la sua simpatia in modo molto diverso dal dal resto del mondo c'erano chi lo conosceva bene sapeva che anche un insulto una cosa una parolaccia detta in un momento di arrabbiatura potevano significare che tu per lui contavi molto più delle altre persone se no l'indifferenza era proprio nera non passavi non ti rivolgeva neanche la parola e poi ti cacciava via in modo sprezzante io ho visto cacciare via persone che effettivamente non erano non si presentavano in orario e c'erano queste scenate allucinanti però alla fine non potevi mai dargli torto magari era un po' esagerato nella forma ma il contenuto era giusto io so che credo che la figlia di Fulci dica che lui trattava male le persone che gli erano simpatiche mi pare di aver letto da qualche parte non so se su Facebook allora io dovevo essergli molto antipatico perché a me mi trattava benissimo e invece trattava molto male alcuni attori di cui non dico il nome e io rimanevo anche sconcertato perché se l'avesse fatto con me erano dolori insomma invece a me mi trattava sempre benissimo con molta affabilità quindi c'è una scena in cui dovevo emergere in una piscina in una vasca e il problema era che dovevo emergere così non con la testa fuori o con i piedi quindi c'era uno che mi teneva i piedi poi c'avevo la muta ma era inverno era inverno per cui nonostante la muta faceva un freddo boia sta scena non veniva perché chi doveva tenermi i piedi non me li teneva nel modo dovuto e a un certo momento sono io che mi sono incazzato con Giandalia e quindi Giandalia è stato in quell'occasione il mio riparafulbine diciamo la verità Lucio con i bambini aveva non poca pazienza ma aveva un limite di pazienza no lo devo dire no mica che li trattava male li trattava benissimo li trattava poi i bambini quando vengono vengono sempre con i genitori vengono sempre insomma protetti da noi tutti che vogliamo fare delle cose forse esasperate poi magari loro potevano non sbagliare ma essere intimiditi perché Lucio altre volte alzava la voce ma non pure con noi a me se mi chiamava urlava Lucio poi stavo a tre metri a due metri dove cazzo che fai andiamo figura da un bambino che dici così perché io ne io sorridevo che Lucio aveva il carattere di urlare di parlare ad alta voce come io adesso posso ma era solo per il suo modo di fare ma anche con noi io personalmente sono un uomo violento cioè nel senso ho il controllo della mia violenza però io ho la consapevolezza della mia violenza Lucio era un uomo violento non aveva il controllo della sua violenza non era consapevole però tutti e due eravamo animati da una carica di violenza nei confronti della vita che si compensava proprio perché io non ero consapevole quindi ero freddo io sono sempre stato uno freddo lucido calcolatore Lucio è sempre stato uno emotivo Lucio aveva veramente paura cioè Lucio faceva il burbero si incazzava con tutti per nascondere la sua fragilità emotiva lì c'è un piccolo annetto però personale che non interessa che mentre stavamo provando c'era un'orchestrina di questi musicisti famosi che la produzione aveva preso per fare questa scena e mentre noi mettevamo le luci come al solito la mattina alle 9 preparate per fare l'interno questi 5 bravissimi maestri di jazz e Lucio li sentiva pure a lui piaceva poi eravamo andati un paio di sere a sentire e allora ha chiamato il fonico e ha detto a questi io ho saputo mentre poi mi ha annunciato ha detto adesso lavorate tutti in silenzio perché i maestri ci fanno un pezzo dedicato a salvati che le piace molto e che andavo tutte le sere e questi hanno fatto per 3 minuti un pezzo loro di jazz io ce l'ho inciso ancora a minianto me lo sento e dice proprio questo è dedicato a salvati che sapeva la mia passione e mi ha fatto e io ho messo in seguità a mettere la luce dei tuoi cisti piani sulle scale perché era proprio l'inizio della giornata e lui ecco aveva queste cose delicate vedi che uomo sapeva la mia passione ha detto fatelo dedicatelo e il fonico l'ha inciso io ce l'ho ancora e questo è il più grande ricordo che ho avuto in Orlinzi e ci sono state altre volte allora questo suo teatro della crudeltà che poi se andiamo a guardarlo diciamo un po' più attentamente ci rendiamo conto che è pieno di ironia e pieno di gioco ma questo lato ha portato molta gente a immaginare mio padre a visualizzarlo come una persona chiusa cupa infelice o anche soltanto un sadico ma anche e guarda non c'è niente di più lontano dalla realtà e non lo dico perché si tratta di mio padre perché non credo di aver visto mai nessuno ridere tanto con davanti un manichino mozzato oppure uno zombie a ridere come un pazzo con uno zombie con i vermi perché poi non dobbiamo mai dimenticare che trattasi di concentrato di pomodoro perché poi l'horror alla fine finisce lì esattamente come i trucchi sono un trucco cioè non è che la gente muore veramente la gente muore per finta il sangue non è vero è finto quindi c'è tutto un gioco è la parte più bella dell'horror perché tutti gli autori horror sono dei grandi comici i tempi dell'horror sono i tempi della gag comica cioè il cinema horror vive non di horror ma vive di allegria che lui era un carattere così esuberante la sua giornata era piena di vita piena di entusiasmo piena di parlare di cinema però non parlava né di politica se no raramente parlava di forse di donne tante volte si poteva parlare ma non tanto quanto gli uomini quando stanno nei bar allo stadio fuori parlano di donne si parlava di donne a me mi accusava ogni tanto che mi interessava una certa donna allora mi dice ti piace ti distrai però era un gioco delle parti che si fa dopo tanti mesi poi i film di mio padre sono molto amati all'estero adesso anche un po' di più in Italia ma diciamo che ci sono voluti gli stranieri per riportare a casa Lucio Folci ma questo non è la prima volta che accade ma nel caso di mio padre è piuttosto eclatante perché nella riscoperta italiana nella riscoperta italiana di Lucio Folci le ragioni della riscoperta le ragioni diciamo dell'apprezzamento sono le stesse che portavano al cinema a quel tempo le persone che lo andavano a vedere negli Stati Uniti per esempio i film di mio padre riempivano i drive-in riempivano i cinema popolari mi permetto di fare un inciso che mio padre era nel cuore un americano a Roma cioè lui li considerava molto più seri gli americani per cui non poteva che fargli un piacere immenso questa sua diceva sono l'unico regista riscoperto da vivo ci faceva mille battute ma era orgogliosissimo Fulci proprio da questo mondo un po' dei B-movies è stato eletto è stato tirato fuori dai veri amanti del cinema e qualche motivo ci sarà ecco e penso che che sia stato che sia dipeso da questa sua assoluta passione che viene fuori sono cose che ti riscaldano il cuore a me l'unica cosa che dispiace è che non se la sia potuta godere papà che ha avuto la logica strana della vita l'ha portato via subito prima dell'espload del boom di internet che è stato quello che anche a me ha fatto intuire in pieno qual era il potenziale della sua opera mio padre per mio padre i critici erano fondamentalmente persone che non sapevano scrivere in italiano per cui quella era la prima cosa che lo bloccava anche se gli avessero paragonato un suo film a un Kubrick aveva degli epiteti terribili per i critici e non solo attenzione non solo per quelli che criticavano e stroncavano i suoi film non era mai d'accordo con nessuna critica di nessun film mi snocciolava nei momenti in cui diciamo schiacciavano un film suo ah ma questo sai cosa disse di Barry Lyndon si ricordava tutto a memoria pur essendo un film apparentemente sgangherato apparentemente fatto con pochi soldi apparentemente con delle scenografie che gridano vendette con degli attori che andrebbero mazzaroccati in piazza del popolo da Mastro Titta cioè al di là di tutti quanti i difetti oggettivi di una produzione non americana fatta con pochi soldi girata in 4-5 settimane cioè senza nessun appoggio c'è una grande cosa una grande illuminazione è l'unico film che apre uno squarcio nella terra della vita non si sogna i sogni sono l'oppio della vita secondo me la forza di questi film e non sto parlando solo della quadrilogia dell'orrore o degli altri film di genere è proprio che in modo impeccabile ma non si prendevano mai troppo sul serio nessuno di questi registi che poi avevano creato veramente delle grandi cose con la loro fotografia con la loro anche regia con l'atmosfera sono mai stati convinti di aver fatto chissà cosa e questo secondo me parte del grande fascino questa leggerezza che poi alla fine è diventata grandiosità mio padre questo gliel'ho sentito dire molte volte se non ti diverti a fare un film non diverti neanche chi lo andrà a vedere a fare un film grazie a tutti